Dov'è benvenuto in studio a Salvatore Monteduro, segretario generale della Will dell'Ario. Parliamo della vostra organizzazione sindacale, Monteduro, nata dalla fusione delle federazioni Will di Como e Lecco. Che numeri avete in particolare nel nostro territorio? Allora, la Will dell'Ario ha 21.000 iscritti sui due territori di Como e Lecco e sul territorio dell'Ecco è rappresentativa di oltre 8.000 iscritti. E noi ci siamo dati questo nuovo modello organizzativo che vede insieme le due strutture di Como e Lecco per cercare di garantire una maggior presenza sul territorio, anche sviluppando e qualificando maggiormente i nostri servizi. A tal proposito, siamo partiti da maggio di quest'anno con un servizio innovativo di patronato a domicilio che è un servizio che tende a aiutare quei soggetti che vivono una serie di difficoltà dal punto di vista motorio e che non avendo a casa un familiare sul quale affidare delle incombenze, delle pratiche noi mettiamo a disposizione un nostro operatore che si reca a casa di questi utenanti per sbrigargli una serie di pratiche, di assisterli nelle pratiche, tipo pensionistico ma anche per quanto riguarda quei laboratori che hanno subito degli infortuni sul lavoro anche di una certa gravità che non gli permette di muoversi di casa anche da questo punto di vista noi ci richiamo a casa loro per offrirgli questo servizio. Come si può fare per usufruire? Qual è il metodo più semplice? Allora, il metodo più semplice, noi abbiamo attivato un numero di cellulare che è 335-54-28-492 dove c'è un nostro operatore che deve essere contattato il quale fornisce sia le prime indicazioni rispetto alla pratica e quindi la documentazione che deve venire in possesso l'utenante e concorda la data nella quale recarsi al domicilio dell'utente. Inoltre, per garantire la sicurezza dell'utenante fornirà in quel momento anche un codice che cambierà volta in volta con il quale si presenterà il nostro operatore a quel servizio.